Sconfitta per la Polisportiva in trasferta, che dopo i successi in casa del Faiano e della Palmese cede al Castella San Giorgio di mister Ciro de Cesare. I padroni di casa partono fortissimi cercando la via della rete dopo poco più di 30 secondi con il Iapicco, che calce in maniera potente ma imprecisa. La Polisportiva prova di stendersi in contropiede concedendo solo la battuta da lontano agli avversari. Alla quarto d'ora infatti Liguori non è preciso nel suo tentativo di sorprendere Spicuzza da fuori area. La Polisportiva torna a farsi pericolosa due volte nel giro di pochissimo, poco prima del ventesimo. Romano trova dapprima pronto dai 20 metri di Filippo, numero uno dei locali. Poi Desio, in un'azione rocambolesca, trova pronto alla deviazione sopra la traversa di Filippo. La risposta della San Giorgio arriva al ventunesimo. Barbari si colpisce dal settore destro offensivo dei ragazzi di De Cesare, solo l'esterno della rete. Il Castel San Giorgio trova il vantaggio al trentunesimo con Malafronte, che capitalizza al meglio una bella azione sviluppata sulla settore di sinistro del campo. I padroni di casa vanno vicino al doppio vantaggio un minuto dopo. Fariello è bravo a chiudere a Spicuzza battuto su una disattenzione di Itri. Al trentacinquesimo un'occasione per parte. Romano trova pronto di Filippo, mentre Liguori dall'altra parte conclude sull'affondo. Nella finale di primo tempo Pasquale Manzo ci prova direttamente da calcio d'angolo, mentre poco dopo Spicuzza deve metterci i guantoni sul destro di Iapicco. La ripresa parte su ritmi forsennati. Botta spreca dall'interno dei 16 metri, mancando la rete del 2-0 per il San Giorgio. Mentre Romano vede strozzata in gola l'esultanza complice una strepitosa parata di Di Filippo. Al terzo di gioco la Polisportiva trova il pareggio. Margiotta dagli 11 metri, dopo un rigore concesso per fallo di mano di Capuano, è freddissimo calciando centrale per l'1-1. Nemmeno il tempo di respirare che la Polisportiva trova il 2-1, sempre grazie a Margiotta che in spaccata nei pressi dell'area piccola non sbaglia su passaggio di Desio. Il San Giorgio torna a farsi vivo con Barbarisi che costringe la respinta Spicuzza prima della decimo. La partita vede un parapiglia al 22esimo e il San Giorgio non trova la battuta vincente graziando così la Polisportiva. I locali trovano il pare al minuto 26 con Malafronte che dopo il secondo penalti di giornata concesso dal direttore di gara supera Spicuzza riportando in equilibrio la gara. Altieri poi, da poco entrato, trova la providenziale risposta di Di Filippo, superlativo ancora una volta al deviare una deviazione aerea riavvicinata. A otto dalla fine, l'estremo difensore locale ancora strepitoso su Margiotta, chiuso nella sua battuta a rete. Quando la partita sembra incanalarsi sul 2-2 finale il San Giorgio firma il 3-2, ma la fronte spizza per Ferrentino che di piatto batte Spicuzza. Nel finale succede poco, finisce 3-2 per la squadra di casa che batte così la Polisportiva. Grazie a tutti.